Oddio, un elicottero! C'è un elicottero in autostrada! Devo dire che ne è rimasto tanto di quest'auto, eh? Sì, praticamente sì. E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo in partenza, andremo in Croazia e faremo tutto il viaggio accompagnati da lei. Ragazzi, siamo a Firenze, ci siamo fermati un po' per un piccolo spuntino e adesso si ripartono. Questo è quando si dice self. Questo è il vero self. Mamma stamattina ci ha preparato taniche di benzino al posto dei panini. Ragazzi, siamo a Venezia, ultima tappa prima di arrivare alla nostra meta che sarà... Beh, ve lo dico dopo, va? Ora, guidiamo un po'. Abbiamo scelto dove mangiare stasera. Oh, la signora è bellissima. Ragazzi, eccoci qui. Siamo appena arrivati a Trieste dopo un viaggio di circa otto ore. Adesso ci andiamo ad esplorare un po' la città e domani mattina ripartiremo. Ragazzi, lo so, si sentirà veramente malissimo. Siamo in mezzo al casino, siamo andando a mangiare e adesso vi porterò magari qualche clip dove siamo lì a mangiare, quello che mangeremo. Allora, vedremo. Cosa da tenere? Beh, cominciamo bene, va? Cosa da tenere? Oh, ragazzi, abbiamo finito, ci siamo abbuffati. Che dici? Abbastanza, sì. Siamo alla... come si chiama? Cantiare. Sì, siamo qui a Trieste, domani mattina ripartiamo. Adesso paghiamo il colpo, salato e torniamo in alberto. Sì. Ragazzi, siamo in camera, siamo distrutti e adesso... E dopo aver fatto rotolare la videocamera per tutto il letto... Ragazzi, buonanotte e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.